Salve, le mani, come le usiamo? Ti frego le mani, mani alzate, metto le mani sulla coscienza, ti tengo per mano, sono nelle tue mani, a mani giunte, col cuore in mano. Si può giudicare una persona da come usa le mani, quante cose si possono fare con le mani, ma fra tutte la più preziosa, la più grande è dare la mano. Dare la mano significa mille cose, significa sono disarmato, quindi ti sono amico, significa dire faccio pace, ti stimo, significa dire sto bene con te, ti amo. Chi ama davvero, prima di dire ti do un bacio, sapete cosa dice? Ti do la mano. Dare la mano è un capolavoro di civiltà e di bontà. Amico, anch'io ti do la mano e ti saluto. Ciao Amico, anch'io ti do la mano è un capolavoro di civiltà e di bontà.